No, no, va benissimo, va benissimo. Solo che volevo, dato che tu hai fatto la domanda, volevo assicurarmi. Allora, ci siamo tutti o quasi. E dunque, questo è un punto importante. Per dirla banalmente, dobbiamo citare le fonti, delle fonti. Un buon numero di fonti. Non posso prendere un libro, un testo, no, no. Devo aver fatto una ricerca della letteratura. Perché? Perché io sto facendo una tesi dottorato, non è quello, il gran guru alla fine della sua carriera, e devo dire, devo conoscere, dimostrare di conoscere ciò che altri hanno detto su quella tematica. Allora, magari il centro della mia tesi è uno studio sul campo, è uno studio, un'inchiesta fatta bene, benissimo, ma devo dimostrare di aver fatto un'indagine grazie alla quale ho scoperto cosa altri hanno detto su quella tematica. O quello specifico, o se non c'è molto su quello, su temi collegati a quello. Non so, sarà l'autonomia, il consenso informato, il rapporto medico-paziente, per poi andare a vedere cosa pensano oggi gli infermieri su un determinato aspetto. E questa sarà un'indagine di campo che farò io, però devo dire, signori, su questa tematica del consenso informato, eccetera, è stato scritto questo. È chiaro questo concetto? Sì. E dunque andare a vedere temi collegati per riportare quella letteratura, che dovrebbe essere un po' come la base, tante volte almeno, quantomeno, la cornice dentro la quale poi io andrò a sviluppare quella impiesca, quel studio di campo. È chiaro, Cecilia? Ok. Prego, Ronald. Dici, tu stai finendo qua, sì, no? Spero che quello che stiamo dicendo non ti obblighi a rifare tutto. No, no, la sto facendo molto bene. Vai, Ronald, dici? Vai dal microfono. Sì, avvicinate il più possibile al microfono, per favore. Sente? Sì, ti sentiamo. Ok. Per citare un testo classico, tipo San Tommaso, San Agostino, devo per forza andare a leggere il testo originale o posso citare San Tommaso da un altro testo? Aha. Va bene. Questo, Ronald, questo è un... lo vedremo dopo. Nella fase di redazione andremo a vedere come citare queste fonti, eccetera. Adesso stiamo vedendo come raccoglierle, come fare la ricerca. Per cui lo vedremo più in dettaglio dopo. Comunque ti posso già subito dire, è chiaro che tu sei già molto avanti nella testa e dunque chiedi anche queste cose, però ti posso subito dire che non mi puoi citare San Tommaso, per esempio, da Sgreccia. Sgreccia che scrive, cita San Tommaso e tu San Tommaso non l'hai letto nemmeno e me lo citi da Sgreccia. Poi vedremo questo... magari se Sgreccia cita invece un autore sconosciutissimo, che solo lui ha conosciuto, o che è in una lingua strana, eccetera, allora sì, puoi citarlo, fare quello che si chiama una citazione indiretta. E dunque in quel caso tu diresti, questo autore, difficile da trovare il testo, dice questo e dici, io l'ho trovato in Sgreccia, manuale bioetica, pagina tale. Questo lo vedremo dopo, come si fa nella pratica, la formalità delle citazioni. Però, ripeto, non mi puoi dire che tu stai citando San Tommaso, che in realtà, perché è un autore che tutti possiamo trovare, che tutti in qualche modo lo troviamo in qualunque biblioteca, eccetera, e puoi dirmi che in realtà San Tommaso tu non hai letto nemmeno una riga, hai preso da altri autori. Normalmente la cosa migliore è citare direttamente dall'autore in questione. citazioni indirette solo quando è difficile trovare il testo citato e tu l'hai trovato in un altro autore. È chiaro? Direi per esempio a Tommaso d'Aquino, o la Bibbia, citi la Bibbia dal manuale di Sgreccia. No, scusa, hai un piccolo sforzo, magari una Bibbia la puoi trovare, no? Va bene? Altre domande su questo? Adesso l'aula si vede bene. Ok, allora, dette queste cose sulla ricerca bibliografica, cioè esaustiva relativamente, andare direttamente alle parti essenziali, cercare fonti che siano attinenti al tema delle varie parti, eccetera, volevo parlare con voi da subito di una questione anche molto pratica, cioè alcuni strumenti per fare la ricerca bibliografica e poi da utilizzare per la redazione della tesi, sia per le note a piedi pagina e sia per elaborare la bibliografia finale. Ho anticipato l'altra volta, vediamo un po', vi condivido qui lo schermo un attimino. Adesso condivido, ecco, vedete adesso questo testo, no? Ok, do un pochino più ampio così lo vediamo bene. Allora, ci sono diverse possibilità per elaborare un database di bibliografia. L'idea è quella di utilizzare un database. Si può sempre scrivere a mano i testi, significa che tu dici nota a piedi pagina e metti autore, titolo, virgola, corsivo, eccetera, eccetera, e questo lo devi rifare ogni volta che citi quella fonte, poi a mano puoi fare la bibliografia finale. Si può fare una volta quando non c'erano i computer e si lavorava così, ma fare oggi in questo modo mi sembra peccato, quasi quasi grave, perché è una enorme perdita di tempo rispetto a quello che si può guadagnare con questi strumenti e questi strumenti aiutano anche poi alla precisione, nel senso che se tu fai bene, riempi bene i campi del database, poi sarà il programma ad elaborare correttamente il formato, lo stile che si chiama, cioè metterà il nome, poi il cognome, poi eccetera, le cose come si deve e non una volta così, una volta così. Allora, dicevo, ci sono diverse possibilità, c'è la possibilità di utilizzare lo stesso Word, se usate questo come processore di testi, che ha uno strumento bibliografico, un piccolo database. Io non ve lo consiglio, uno perché è molto semplice e fa appena appena l'essenziale, e non vi dà tanti strumenti che sono molto utili, che vedremo, due perché è una bibliografia che puoi gestire solo da Word, da quel documento, mentre interessa, già che ci siamo, avere un database bibliografico che ora uso sostanzialmente per la tesi, ma domani lo userò anche per un articolo, per un libro, per una conferenza, eccetera. Sarà la mia bibliografia, il mio database bibliografico, per cui ogni volta che avrò bisogno di trovare un testo, di citarlo, eccetera, andrò in quel database. Andiamo a vedere allora gli altri strumenti. C'è un programma molto noto che si chiama End Notes, che è forse quello più conosciuto, o almeno era il più conosciuto, più professionale, è anche uno dei più costosi, mi pare che sia, non so, potete cercare, ma intorno ai 200 euro. È molto professionale, molto diffuso nell'ambito universitario, accademico. Un altro programma simile è questo che evidenzo adesso, che si chiama Reference Manager, e diciamo l'alternativa End Notes, sono simili tutte e due, è diventato più famoso negli anni End Notes. Anche questo molto professionale, molto completo, molto ricco di possibilità, e anche molto costoso. Per chi usa Mac, io consiglierei di utilizzare Bookends, che è, diciamo, l'equivalente su Mac a End Notes, è il programma più diffuso di bibliografia nel mondo Mac, e non è tanto costoso, mi sembra che sia più o meno sui 30 euro, una cosa del genere. In generale i programmi per Mac, non so bene per quale motivo, sono molto più conosci. Poi c'è Citavi, Citavi è un programma molto interessante, che esiste solo per Windows, e perciò io, dato che ho Mac, non lo utilizzo, per cui non lo conosco molto bene, ma è un programma interessante, è stato creato in Germania, è molto diffuso in quell'area lì, anche se si diffonde anche in altre parti del mondo, è fatto proprio per fare tesi e questo tipo di lavoro. Ed è interessante perché unisce due tipi di database, quello del database bibliografico e il database delle schede di contenuto, di cui parleremo dopo. Cioè quando io leggo una fonte, già il testo, e prendo note di quella fonte, vedremo dopo, devo fare delle schede, delle piccole note, con un riassunto, una frase, un dato, eccetera. Quello che fa Citavi è che mi permette di creare queste note, quello che io chiamo schede di contenuto, collegate alla fonte. Allora io registro la fonte, manuale di sgreccia, eccetera, eccetera, e poi leggo il manuale di sgreccia e faccio una scheda di contenuto proveniente dalla pagina 50 ed è collegato. Il programma sa che quella scheda lì proviene dalla pagina 50 del manuale di sgreccia. Per cui quando io poi andrò ad utilizzare questo, già nel momento della redazione, andrò a prendere il contenuto della scheda e col programma stesso riporterò la citazione bibliografica. E allora in questo senso è molto interessante. C'è un altro programma, lo cito solo perché è anche interessante, questo di Mendeley, che mi sembra che sia gratuito, che è un programma di bibliografia. E finalmente Zotero, che è quello che adesso vorrei spiegarvi un pochino in dettaglio. uno perché vi consiglio chi non preferisce spendere 200 euro in Endnotes oppure se utilizza Mac ricorrere a Bookends o Citavi, è quello che vi consiglio. Per vari motivi, uno perché è molto completo, è molto diffuso ed è anche gratuito. non lo consiglierei se fosse gratuito ma non funzionasse bene, ma oltre ad essere gratuito funziona molto bene. Spero che adesso vi potrò mostrare come funziona. Allora, quei due che io ho messo in eretto sono quelli che io consiglio. In generale Zotero chi usa Mac consiglierei di utilizzare Bookends. Ma chi vuole dia uno sguardo anche a Citavi non è costosissimo, non è molto caro, più chiaro sicuramente di Zotero che gratuito, ma insomma è abbastanza abbordabile per quanto riguarda il prezzo. E allora andiamo adesso tra un po' a vedere Zotero in atto. Perché passo da una considerazione, per così dire, teorica su come lavorare, i criteri, eccetera, a vedere uno strumento? Perché io credo che sia opportuno cominciare a lavorare con questo tipo di strumento informatico dal primo giorno. Perciò avevo invitato l'altra volta ad andare a cercare Zotero, scaricarlo, cominciare a mettere le mani, perché credo sia opportuno non lavorare per due anni e poi dire adesso devo versare tutte le fonti che io ho scritto a mano è una perdita di tempo che non ha senso. Allora cominciare a lavorare da subito con uno di questi strumenti, per esempio Zotero. Ora, quali tipi di operazioni possiamo fare con un database come quello di Zotero? Andiamo a vedere. Innanzitutto vi dico una cosa molto semplice a proposito del concetto di database, in modo che ci abbiate bene in mente, perché è un concetto che vale per qualunque di questi programmi. cioè un database è uno strumento informatico, può essere anche non informatico, adesso mi riferiamo, è un elenco per così dire che divide l'informazione o classifica l'informazione in, o racchiude l'informazione meglio, con due parametri che sono righe e colonne. Ho detto più tecnicamente record e campi. Per esempio, se ho un database di gestione di contatti, ogni contatto sarà una riga, un record, e ogni record sarà composto da camponome, campocognome, telefono, indirizzo, città, eccetera. Il concetto del database è molto importante perché ci permette poi di avere la flessibilità di andare a cercare in un campo o nell'altro, di ordinarli per un campo o per l'altro, eccetera. Questo è importante. In realtà, un foglio Excel, per intenderci, è un database. Nel foglio Excel io ho tanti record, che sono le varie righe, e ogni riga suddivisa in campi, che sono le varie colonne. Allora, l'idea è quella di capire che questi programmi di cui stiamo parlando sono dei database. Ok? E dunque, in questo caso, ogni fonte bibliografica, che sia articolo, libro, documento, sarà un record e sarà composto da diversi campi, per esempio, nome dell'autore, cognome dell'autore, titolo, sottotitolo, cassa editrice, eccetera, eccetera. E questo vale per qualunque database. Per cui, se utilizzate Zotero o utilizzate un altro, la logica è la stessa. È anche interessante sapere che normalmente, insomma, di tutti questi programmi che ho citato, si può esportare ed importare. Per cui, se cominciate ad utilizzare Zotero e dopo qualche mese che avete già 100 schede, decidete di passare a Bookends o viceversa, o a Citavi, si può sempre da Zotero esportare in vari formati e poi importare dall'altro. Normalmente funziona molto bene. Ora, quali operazioni possiamo fare con questi database, con questi programmi bibliografici? ci sono diverse operazioni. Uno, logicamente, schedare i testi ed ecco il concetto di database e dunque per ogni testo sarà raccolto il nome dell'autore, il titolo e via dicendo. Secondo, possiamo ordinare gli elenchi, lo vedremo subito, per cui io posso ordinare per autore, per data di pubblicazione, per città, eccetera. come anche filtrare i testi. Adesso mi interessano solo i testi, cioè le schede bibliografiche che raccolgono testi dal 2000 in poi o in lingua francese oppure di quest'autore, eccetera. Trovare i testi nel DB e cioè se io facessi con delle schede manuali puoi andare a trovare dove sta il titolo che stavo cercando è abbastanza letto. mentre con questi strumenti trovo immediatamente se mi ricordo dell'autore piuttosto che del titolo, eccetera, lo trovo immediatamente. Ma c'è anche un'altra utilità che danno questi strumenti oggi, questi informatici ed è poter trovare rapidamente dei test in internet ed eschedarli automaticamente. Faremo un esempio adesso. E dunque io non dovrò riempire tutta la scheda manualmente. se io ho un libro fisicamente stampato e non ho un altro modo di vedere i suoi dati allora posso creare una scheda manualmente andrò a riempire autore titolo, eccetera. Ma vedremo com'è molto utile anche utilizzare questi strumenti per poter andare su internet e da lì riempire una o tante schede con un solo colpo di clic. Poi questa è la gestione ma poi come lo utilizzeremo nel fare la tesi? Allora innanzitutto potremmo una volta che abbiamo raccolto dei testi esportare questi testi per un foglio Excel per un altro formato e anche stampare gli elenchi per cui a un certo punto il docente mi dice senti adesso che siamo già in questa fase dopo dieci anni che lavori alla tesi mi puoi mandare un elenco bibliografico almeno del primo capitolo bene allora si preoccupi il professor e glielo mandi subito perché col programma subito ti crea l'elenco e lo mandi va bene? Poi inserire citazione nel mio testo e lo vedremo io non scriverò a mano cognome nome casa edilizia eccetera ma sarà il programma a buttarmi dentro quella citazione bibliografica con la formatazione quello si chiama lo stile per esempio in questo caso lo stile della regina apostolorum poi mi permetterà formattare le citazioni nel testo e cioè dopo potrò anche cambiare la formatazione questo vedrete sarà interessante molte volte supponiamo avete fatto la tesi con lo stile regina apostolorum poi vi dirò come lo trovate per esempio per Zotero che c'è già lo potete scaricare allora avete scritto la tesi con lo stile regina apostolorum a un certo punto volete pubblicare tutto il testo o un capitolo una parte magari un articolo traendolo dalla vostra tesi su una rivista che però utilizza lo stile per esempio molto famoso Chicago o APA APA6 allora vedrete che voi dovrete soltanto dire a Zotero senti anziché usare lo stile regina apostolorum usa lo stile Chicago e lui vi riformatterà tutto il testo secondo lo stile Chicago un clic e lui fa tutto il lavoro in pochi secondi se è lunghissimo in pochi minuti immaginate se una cosa del genere dovreste voi farla manualmente dovreste dedicare settimane a riformattare tutto lo stile perché qui c'è il parentesi il titolo va in corsivo nell'altro invece va tra virgolette eccetera eccetera e finalmente molto utile anche usare questi programmi perché possono generare possiamo noi fare generare al programma la bibliografia finale del testo io inserirò a piedi pagina le citazioni prendendole da Zotero adesso d'ora in poi parlerò sempre di Zotero pensate sempre al programma che utilizzerete allora utilizzerò Zotero per inserire la nota a piedi pagina e poi dirò a Zotero per favore adesso tirami fuori l'elenco della bibliografia finale e lui lo fa in pochi secondi tu hai la bibliografia già tutta formatata secondo lo stile adeguato per esempio Regina Postoloro capite che questo farlo a mano richiede ore e ore e ore di lavoro con quasi la sicurezza che qualche volta sbaglierai usando questi programmi se la scheda il database è riempito bene cioè il cognome dell'autore al posto del campo cognome e il titolo al posto del titolo eccetera eccetera e poi usate lo stile corretto il resto lo fa lui sia per le citazioni a piedi pagina sia per la bibliografia finale va bene? va bene allora andiamo a vedere come funziona Zotero concretamente innanzitutto io ce l'ho aperto qua voi potete scaricarlo tranquillamente da Zotero punto com adesso non entro in questo anche perché uno perché è facilissimo e due perché ve l'ho consigliato di fare l'altra volta forse molti l'avete già fatto dunque entrare in Zotero punto com e troverete lì anzi no scusate invece no nego me stesso e vado perché volevo se qualcuno non avesse scaricato già Zotero o un altro se ha deciso di utilizzare un altro forse conviene vedere qualche cosetta solo qualche consiglio pratico molto semplice vediamo un po' se arriva ok vengo qua Zotero vedete ah no scusate Zotero punto org vabbè se cercate Zotero con la Z su Google lo trovate Zotero punto org e lì vedete dice download now cioè potete scaricarlo subito e vedete che è disponibile per Mac Windows e Linux allora io vado là adesso non farò perché ce l'ho già e mi dice quale vuoi Zotero 5 per Mac download eccetera vi consiglio anche vivamente di installare anche questo plugin questo è un'aggiunta che si aggiunge al browser in questo caso Chrome ma potete utilizzarlo anche con Firefox se usate quello come browser come il programma col quale navigate in internet questo perché in questo modo vedremo possiamo fare quell'operazione di andare a scaricare cioè riempire delle schede bilografiche direttamente da internet senza doverlo fare manualmente ecco e poi c'è un'altra cosa vediamo un po' se qui me lo trovo subito ah no ha cominciato scusate allora lo fermo giusto perché non mi prenda spazio del del collegamento cioè banda di post sì post della connessione internet c'era una cosa interessante ci sono due modi o due 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 versioni per così di poter però adesso non la vedevo forse hanno cambiato il modo di presentare le cose cioè c'era almeno prima la versione che era per usare con firefox senza installarla nel proprio computer in modo che hai bisogno di essere collegato a internet per utilizzarla e la versione che si chiamava stand alone cioè che si installa nel tuo computer io vi consiglio di utilizzare questa forse adesso addirittura l'altra l'hanno tolta perché non la vedo comunque se vedete che c'è firefox e stand alone vi consiglio vi consiglio di installare la versione stand alone che comunque se installate anche quello che abbiamo visto sul Chrome o firefox il browser potete fare le operazioni anche online va bene ok e allora voi installate il vostro programma una volta che l'avete installato Sotero vi appare in questo modo vedete qui per esempio io ho la bibliografia che io in realtà che ho preso da cioè utilizzo bookends ma l'ho esportata da bookends e l'ho importata sul Sotero giusto per avere così per poter fare delle dimostrazioni adesso vedo che sta mettendo un po' di tempo perché non lo so perché forse perché sta ancora scaricando ecco questa è per esempio una mia bibliografia che posso ordinare per titolo se clicco qua sopra o per anno per diversi criteri posso andare a filtrare posso andare a fare tante cose e poi andiamo a vedere subito però l'utilità immediata per nel momento della redazione perché voglio che vediate come non si tratta solo di di riempire un database ma di utilizzarlo in modo molto efficiente nel nostro lavoro quando facciamo la test allora vado qui ho fatto un database che si chiama test ecco io ho questi testi pochi testi per semplificare le semplificazioni allora l'idea è questa poi vedremo come si usa eccetera ma supponiamo che io ho questo testo che sto scrivendo della mia tesi e scrivo e scrivo una frase per esempio questo è un testo citato eccetera quando scrivo questa frase io qui voglio introdurre la citazione corrispondente la fonte dalla quale prendo quel concetto quella frase vedete che qua io ho word con le sue varie parti e qui mi compare anche una cartellina che si chiama add-ins nelle varie lingue si chiamerà in modo diverso cioè aggiunte vado lì e mi trovo questi bottoni questi bottoni sono di zotero vale a dire nel momento in cui ho installato zotero mi ha chiesto se volevo installare anche plugin per word ho detto di sì e lui si è inserito dentro word e ha installato questi bottoni mentre questi sotto sono la stessa cosa ma corrispondono a bookends ok allora vedete che qui ho una serie di bottoni mettendo il cursore sopra mi dice di che cosa si tratta allora per esempio questo primo bottone mi dice insertare la citazione allora mi trovo qua e qui il testo di riferimento è il manuale di sgreccia va bene allora vengo qua e richiamo zotero clicco e mi si apre una finestra io qui voglio citare sgreccia dunque faccio add ins vediamo se funziona clicco su questo bottone di zotero vedete qui mi è comparso il mio database di zotero lo vedete no? sì ok qui io ho pochi testi perché solo ho questa prova ma a un certo punto ne avrò 200 300 non so quanti allora io posso andare qui in alto a destra a cercare per esempio cerco manuale eccolo qua dico questo benissimo allora voglio citare questa fonte dentro il mio testo di word già che ci siamo posso indicare anche in quale pagina o in quale pagine sgreccia dice quello a cui mi sto riferendo supponiamo che questo lo dice la pagina 45 trattino alla 47 va bene e allora faccio così clicco e lui mi riporta dentro word vedete che ha creato una nota per i pagina dentro word e giù ha inserito la citazione citazione sì e vedete che ha scritto uno perché la prima nota ha messo anziché Elio ha messo e punto sgreccia e l'ha messo con questo tipo di carattere che si chiama maiuscoletto e poi il titolo in corsivo eccetera e perché ha fatto così perché io sto io ho detto a Zotero di utilizzare lo stile lo stile regina apostolorum che ridiene queste cose dopodiché mi mette la cassa editrice città anno e vedete qui in fondo le pagine perché io gli ho detto che volevo citare solo quelle pagine non tutto il testo e ha chiuso con un punto io qui potrei venire e poi aggiungere qualche cosa a mano perché dico questo un testo insomma completare la nota a piedi pagina se dovessi fare un'altra scrivere di più adesso per esempio io dice qui ripeto la stessa fonte cioè può darsi che io dopo che ho citato il manuale di sgreccia la seguente citazione che faccio è della stessa fonte e vedremo cosa farà Zotero allora vengo qui di nuovo a questo bottone sopra in alto per inserire la citazione e in questo caso cito di nuovo il manuale di sgreccia ok e supponiamo che questo lo dice a pagina 89 solo una pagina ma può succedere che io questa fonte non la non sto riportando il testo letterale tra virgolette esattamente ma sto in qualche modo parafrasando cioè sto dicendo qualche cosa come dice sgreccia il mondo è bello va bene e allora in questo caso tecnicamente dovrei mettere prima della fonte la parola confer che può essere scritto con cfr punto o cf ok questo è internazionale vale nelle varie lingue allora questo io lo posso già da questa finestra di Zotero inserire qui dove dice prefisso prefix allora io metto lì per esempio cfr punto va bene e tutto il resto lo lascio così clicco ok mi riporta dentro word mi ha aperto la nuova nota di pagina il numero 2 e vediamo sotto che cosa ha fatto la prima nota è quella di sgreccia la seconda lui già automaticamente ha detto uno confer perché io l'ho detto io ma poi non ha messo di nuovo e punto sgreccia tutto quanto ma i bid pagina 89 cioè ha capito che sto citando la foto anteriore e dunque mi utilizza la formula che si usa in accademia nel mondo scientifico per ripetere la stessa fonte non si cita di nuovo ma si dice i bid o i bidem va bene allora vedete che questo l'ha fatto lui in automatico ma la cosa più bella è che se poi tra la citazione 1 e la citazione 2 io decido di inserire un'altra frase con una citazione 3 poi lui capirà che questa non sarà più i bid perché non è immediatamente susseguente a quella del manuale di sgreccia me la citerà in modo diverso e io non mi devo preoccupare assolutamente dell'ordine delle citazioni quando comincia se io la seconda la riporto in un capitolo anteriore e dunque non è più seguente a quella della nota 1 ma diventa anteriore lui quella prima volta la metterà tutta per esteso e la seconda volta farà riferimento alla citazione già riportata ecco se io vengo qua e dico qui inserisco un altro riferimento qui cito un'altra fonte sempre bottone sinistra in alto mi presenta il mio database cerco l'altra fonte supponiamo che sia che dice clinicians eccetera dico questa qua e questa in questo caso è tutto l'articolo dunque non cito da una pagina all'altra invece sì voglio dire che anche qui confer cioè non cito esattamente parole lettere ma faccio un riferimento lo metto confer nessuna pagina e vado avanti ok e lui mi apre una terza nota per i pagina e mi riporta quella fonte lì vedete tutta già formattata vedete che in questo caso lui ha messo il titolo il titolo tra virgolette mentre questo qua l'ha messo in corsivo perché perché lui sa dai dati di Zotero che in questo caso non è un libro ma è un articolo di rivista e secondo lo stile Regina Postolorum un articolo di rivista si cita il titolo fra virgolette la rivista in corsivo poi mi ha messo il numero l'annata l'anno di pubblicazione tra parentesi perché appunto si tratta di quello e poi io non gli ho detto che uso solo una pagina o l'altra ma lui mi riporta le pagine dell'intero articolo va bene se io avesse detto pagina 1499 metterebbe solo quello e ultima cosa che voglio far vedere vabbè cito diverse cose poi posso anche inserire più fonti con un solo click cioè la tipica nota per i pagine in cui dico al lettore su questo tema consiglio di vedere queste 3-4 fonti va bene per esempio all'inizio di un capitolo una cosa del genere allora io vengo sempre qua in alto a sinistra ma questa volta una volta che compare il database di Zotero io dirò che voglio vedete qui sotto dice multiple sources cioè fonti molteplici allora clicco lì e mi dice va bene scegli tu quali fonti e dico allora questa volta cito il manuale di sgreccia e lo inserisco a destra con questa frecchetta ma cito anche questo qua e già che ci siamo anche questo e questo logicamente cerco per titolo per nome eccetera vedete che qui a destra ho indicato le quattro fonti che voglio inserire in quella nota a piedi pagina dato che magari non sto citando letteralmente voglio mettere anche qui confer perché appunto farò un riferimento a questo oppure metto per esempio metto in italiano su questo vedi e magari due punti quello che voglio e clicco ok e allora lui mi apre un'altra nota a piedi pagina vediamo un po' cosa combinato e qua sotto mi ha inserito tutte quelle fonti tutte formattate e separate da punto e virgola vedete che è il modo in cui devono essere riportate più fonti citate in una stessa nota a piedi pagina allora capite che questo è di una grandissima utilità perché mi fa tutto il lavoro lui non solo ma io a un certo punto cambio qualche cosa sposto questo parafro qua là e dunque l'ordine delle note a piedi pagina cambia non importa poi passa a lui e lo rimette tutto a posto posso anche cambiare il tipo di stile vengo qui sopra nei bottoni di Zotero dentro Word questa rotina e vedete che qui figura vediamo un po' se arriva vedete lo stile pontifica in Arteneum Regina Postolorum ma posso utilizzare un altro per esempio uno per la se scrivo per la gregoriana oppure Chicago mettiamo che uso questo qua io clicco ok e lui mi ha messo vedete già dentro il testo anziché nota per i pagina ha fatto come si fa con lo stile Chicago che il riferimento bibliografico compare dentro il corpo stesso del testo tra parentesi dove si mette l'autore l'anno e le pagine e ha fatto così per ogni citazione da me riportata non più note a pedipagina ma così io adesso dico no scusa ho sbagliato rimetto Regina Postolorum dove sta eccolo qua e uso questo qua un attimino faccio così e mi riporta il testo secondo lo stile Regina Postolorum per cui se un domani voglio pubblicare con la casa editrice basta che utilizzi lo stile e lo stile lo posso anche io modificare poi non è facilissimo ma si può modificare vedete di nuovo mi ha riportato tutto secondo lo stile Regina Postolorum non solo ma io adesso voglio ho finito la tesi o anche il capitolo e voglio consegnare questo al docente con la bibliografia scrivo per esempio qui bibliografia finale faccio così e adesso che cosa faccio vedete questa operazione che sembra quasi addirittura magia vengo qui ai bottoni di Zotero e dico insert bibliography il terzo bottone quando cliccherò lui che cosa farà lui passerà attraverso tutto il mio testo di Word e andrà andrà a pescare ognuna delle fonti che io ho riferito a piedi pagina e mi creerà l'elenco della bibliografia finale in automatico allora adesso clicco abbiamo detto il terzo bottone insert bibliography clicco lui ci lavora un po' ecco ecco ha già finito vedete lui mi ha creato la bibliografia finale sgrecciare ha citato due volte ma non importa lui l'ha trovato e dunque lo riporta lo riporta in ordine alfabetico secondo il modo di citare lo stile regina apostolorum per la citazione bibliografia finale vedete che prima nella nota a piedi pagina metteva e punto sgreccia adesso invece ha messo sgreccia punto e sgreccia e punto perché la bibliografia finale si ordina in ordine alfabetico per autori e mi ha messo tutto il resto così con tanto di separazione questo rientro che si chiama rientro francese che si usa nella bibliografia ma l'ha fatto tutto lui e se dopo domani inserisco un'altra fonte perché mi viene in mente di inserire un'altra citazione io metto l'associazione nella sua pagina rigenero la bibliografia e lui me la mette tutta capite che questo farlo a mano immaginate solo questa citazione qua devo mettere tutto questo con questi segnetti bucci eccetera tutto secondo la lingua è veramente un un incubo qui invece è un sogno va bene? va bene ok poi magari la prossima volta vedremo altre cose sull'uso di zottero eccetera allora dicevo io vi consiglio di cominciare ad utilizzare subito zottero o un altro dei programmi utili per questo cominciare a schedare in questi record le vostre fonti quelle che già cominciate a trovare perché state pensando al tema eccetera eccetera una questo lo potete fare diciamo in due modi uno a mano e allora io per esempio qui supponiamo qualunque di questi testi ho una serie di capi ricordate ognuno di questi record ogni fonte e ogni record è formato da campi andiamo a vedere quello più semplice il primo campo dice che tipo di testo è in questo caso un libro altrimenti se fosse un articolo di rivista sarebbe in inglese journal article e se fosse una parte di un libro un capitolo di un libro di autori vari allora sarebbe book section poi ci sono tante altre cose ma normalmente sarà o libro o articolo da rivista scientifica o contributo dentro un libro di autori vari dunque book section e così lui sa come deve trattare questa citazione quando la riporterà su word con titolo in corsiva piuttosto che in virgolette a seconda del tipo di fonte e poi ci sono gli altri vari campi che vedete sono la casa di ti scusi c'è una domanda vedo in chat che chiedono c'è una domanda dall'aula e chiedono aiuto ok allora vediamo un po' dove siamo sì come 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 è meglio che lei finisca di parlare e facciamo le domande ok sì no ma in realtà stavo vedendo l'orologio vedo che sono già le sei e dunque dobbiamo andare dunque se avete una domanda prego professore vorrei dirle se la prossima volta ci parla anche come aveva detto una prima volta come utilizzare i testi cioè come fare per esempio delle schede di ogni testo cioè evitare che magari uno legge il testo e poi non riesce a memorizzare bene sì questo sarà nella seguente fase cioè abbiamo visto ricerca bibliografica Sotero poi una volta fatta una ricerca bibliografica sulle parti essenziali della tesi secondo lo schema andremo a letture le fonti e la lettura delle fonti faremo delle schede quelle che io chiamo schede di contenuto e vi farò vedere come con quale programma si può fare in modo molto efficace questa lettura delle fonti e questa schedeazione per prendere note in modo che effettivamente non si perda il contenuto delle cose interessanti che man mano troviamo con le nostre letture ma sarà nella seguente fase per cui la prossima volta che a questo punto sarà in aprile ritorneremo un po' riprenderemo il discorso di Sotero in modo che possiate utilizzarlo con efficacia ma se voi cominciate già a mettere le mani dentro il programma imparerete molto bene e passeremo anche alla seguente fase che sarà ricerca e dunque anche schede di contenuto va bene va benissimo va benissimo padre ringrazio tanto molto interessante grazie veramente di cuore complimenti qui avremmo alcune domande gliele posso fare telegraficamente e lei vede se abbiamo tempo di rispondere adesso si devo essere rapidamente perché io devo andare comunque si una o due domande si prego prima domanda dove troviamo o come possiamo mettere automaticamente i criteri del reggine apostolorum li dobbiamo inserire manualmente o li peschiamo da qualche parte seconda domanda che cosa ci suggerisce per scannerizzare dei testi se di per sé i programmi che ci ha fatto vedere hanno la possibilità di scannerizzare dei testi in cartaceo e inserirli in digitale terzo alle volte per riportare delle citazioni che troviamo per esempio sui pdf è un disastro riportare tutto il formato c'è un modo automatico per farlo che suggerimenti ci dà grazie padre sì io risponderei per ora solo la prima tenete le altre per la prossima volta ma la prima sì vorrei darvele in modo che possiate usare subito allora voi andate la cosa più facile andate su google e cercate Zotero Repository Repo sì e ve lo rimette lì state vedendo no non state vedendo lo schermo un attimino ve lo condivido di nuovo ecco vedete ho cercato dentro google Zotero Style Repository andate lì state vedendo sì ok vedete che dice Style Search basta che voi scriviate Regina Apostolorum e vi dà subito lo stile del Regina Apostolorum vedo che adesso comunque collegamento un po' lento perché appunto sto usando ecco io scrivo Regina e probabilmente già subito me lo dà pure pontifica modifica la se io scrivo Regina me lo dà vedete c'è qui allora clicco su quello e lui fa immediatamente download e mi installa un piccolo file di estensione CSA piccolissimo poi basta che avendo Zotero aperto io clicco doppio su quello e mi inserisce quel tito quello stile Regina Apostolorum dentro Zotero dopodiché lo posso già utilizzare da Zotero la prima volta che farò una citazione dentro un nuovo documento in Word la prima cosa che mi dirà quale stile vuoi utilizzare e mi presenterà molti e io troverò Pontifica l'Ateneum Regina Apostolorum e basta da quel momento in poi userà quello capito? allora su Google Zotero Style Repository nella finestrella quella scrivere Regina Apostolorum cliccare sul link scarica un piccolo file doppio clic su quel file e abbiamo già installato lo stile Regina Apostolorum dentro Zotero dopodiché lo usiamo tranquillamente va bene tra l'altro è una cosa importante non preoccupatevi troppo se per esempio questa operazione non potete farla perché il bello è che se voi utilizzate qualunque altro stile a un certo punto adesso usa Regina Apostolorum lui ve lo fa tutto lo fa tutto tranquillamente senza dover rifare tutto da capo dunque potete usare lo stile che volete che poi prima di consegnare all'Ateneum almeno inserite utilizzate lo stile Regina Apostolorum e lui vi formata tutto va bene grazie è stato un piacere alla prossima volta e buon lavoro grazie ciao a tutti grazie arrivederci grazie alla prossima grazie buona serata grazie a tutti